Avete scritto corretto con la parola futuro incerto ma sicuramente l'Academy si iscriverà in Lega 2 stiamo valutando se convenga farlo a Cagliari o meno perché dopo due anni si possono tirare un po' le somme ed è evidente che il pubblico ha più passione per la Dinamo Sassari che per l'Academy quindi probabilmente non c'è spazio per due squadre in Sardegna stiamo ragionando su questo e sul fatto che probabilmente anche l'Academy deve fare un'evoluzione perché ogni squadra italiana al massimo ha un paio di giocatori da mettere di italiani nel roster per poter crescere noi li abbiamo, Diop e Bucarelli l'anno prossimo arriveranno a Sassari quindi il percorso è stato perfetto ha funzionato benissimo però deve evolversi probabilmente un po' di più E allora grazie, bocca al lupo per i playoff, qual è il traguardo che vi prefiggete Presidente? No, ha risposto Pozzecco, io mi sono dissociato, stiamo fermi così D'accordo, grazie 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 Grazie